Con questo fondo Alleanza per Roma, tre istituzioni che sono il vicariato, la Regione Lazio e il Roma Capitale si uniscono e uniscono le forze affinché nonostante gli sforzi fatti fino adesso si riescano a raggiungere ancora più persone. Credo che l'Alleanza per Roma da questo punto di vista possa essere un ulteriore stimolo anche per coinvolgere magari tante aziende o tante persone che in questo momento hanno avuto la fortuna di non essere toccate incise economicamente dalla crisi e che si sentono di donare una parte a coloro che invece hanno avuto una sorte differente. Ai nostri sportelli delle politiche sociali sono arrivate ancora più famiglie e continuano ad arrivare. Con i buoni spesa noi abbiamo aiutato oltre 70.000 famiglie che significa 200.000 persone però altrettante ne abbiamo raggiunte con i pacchi spesa e non basta perché abbiamo poi ampliato la rete unendoci appunto alla Caritas, alle parrocchie, alle associazioni del terzo settore. Se non arriva prima una risposta legale, concreta, c'è il pericolo di infiltrazioni criminali. La solidarietà è sicuramente un percorso, è fatta di tanti piccoli gesti, come tante piccole gocce fanno il mare. Io credo che questo possa essere un bel segno per aiutarci tutti a contribuire a non lasciare nessuno indietro.